Buongiorno, buon lunedì mattina, benvenuti a Occhio ai giornali e la rassegna stampa di Fano TV che come tutte le mattine inizia insieme a voi la giornata e gli spazi informativi di Fano TV. Guardiamo però prima per ordine il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi è lunedì 4 maggio, San Silvano Martire, il sole è sorto alle 5.57 e tramonterà alle 20.14. Guardiamo il tempo, iniziamo subito dalla nostra postazione meteo che ci dà una temperatura al suolo di 17,7 gradi, insomma quasi 18 gradi. Quindi veramente andiamo verso tre giorni, dopo lo vedremo anche dalle previsioni del tempo, tre giorni di temperature intense. Guardiamo però il cielo come si presenta questa mattina, pochi minuti fa, non è proprio terzo e azzurro, c'è questo grigiume, questa nuvolosità così grigia, però nell'arco della giornata migliorerà. Infatti guardiamo le previsioni del tempo per quanto riguarda la protezione civile, il cielo inizialmente sarà nuvoloso, prevalenza di sereno però già dalla mattinata, appunto come vi dicevo, assenti le precipitazioni, le temperature sono in aumento. Vediamo poi domani, martedì, ecco vedete sole pieno su tutta la costa, qualche comparsa di nuvole sul versante interno e montuoso, in cielo sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione, quindi insomma abbiamo veramente davanti tre giorni di bel tempo. Iniziamo dai giornali, iniziamo a sfogliarli, questo lunedì naturalmente c'è una fogliazione un po' ridotta, però vediamo, iniziamo dal Corriere Adriatico di Pesaro e tanto per rimarcare il fatto che andiamo verso la bella stagione, iniziano a riaprirsi i centri estivi e si inizia a parlare appunto di questi spazi a disposizione dei più piccoli, dei bambini. Pesaro, il comune, rinuncia al servizio, un bando per l'accreditamento di società Onlus, quale sarà appunto l'estate dei bambini, tariffe rimodulate sulla base del reddito, questo è quello che è la pagina principale del peso del Corriere Adriatico, a Fano invece, altra argomentazione, la burocrazia sta uccidendo l'impresa, risarcimento che non arrivano, normative senza senso, la corsa degli operatori balneari per arrivare alla stagione, e quindi anche queste sono le difficoltà dovute naturalmente al maltempo che hanno costretto gli operatori balneari a ripascimenti e rifaccimenti di strutture, per spostare la ghiaia da una spiaggia all'altra necessarie le analisi di ARPAM, ma così si blocca tutto. In basso la Colle Marathon, la maratona che è giunta alla sua tredicesima edizione, decima in Italia per importanza, sul podio maschile quattro atleti marocchini, il continente africano si è giudicata quindi l'undicesima sulle tredici disputate maratone, veramente non c'è storia con questi atleti e anche l'italiana davanti a Maria Varic. Agonismo, passione, fatica, il pubblico ha incitato i concorrenti lungo tutto il percorso, un percorso molto bello che si snoda su tutti i borghi del nostro entroterra per sfociare poi al mare. Cambiamo testata, andiamo sul resto del Carlino, la politica sarà sicuramente uno dei temi portanti per i prossimi giorni, per le prossime settimane, le politiche naturalmente in ambito regionale perché il 31 maggio ci saranno le elezioni regionali. Allora, chiuse le liste, vediamo 5 aspiranti governatori in 60 per 7 posti da consiglieri, i candidati con ceriscioli, 3 liste, 2 con spacca, l'ADC non c'è in provincia di Pesero e Urbino, vedete qui in questo articolo le liste e i nomi dei loro componenti. E poi una sfida ad altri tempi nel centro-sinistra, perché spacca tra nuova ADC e ceti produttivi, la barzelletta del Pesero prende tutto, ancora dalle pagine del resto del Carlino, siamo alla cronaca, un incidente avvenuto ad un ciclista che cade e perde la memoria, non si sa ancora se è colpa di una buca o di un'auto, il fatto è accaduto a Colombarone, e i contorni sono ancora indefiniti, indaga la municipale, sentito un testimone che però ha dato indicazioni vaghe, il ferito è un 68enne riminese. Ancora dalle pagine del resto del Carlino, siamo a Marotta, cronaca, brutto episodio, una rapina con qualche momento di panico da parte della barista, mi ha aggredito, dice in questa intervista al resto del Carlino, mi ha gettato a terra, ha preso la borsa ed è fuggito a piedi, il racconto è stato un momento molto brutto per me, alto e moro, questo è l'identikit che dà del aggressore, e qui finiti i tempi felici in questo chiello, tante volte negli anni scorsi ho chiuso il bar da sola, certe cose non accadevano, ora puntini puntini, insomma è una sospensione che fa capire l'angoscia e i tempi che sono cambiati, ho sbattuto la faccia sul pavimento, appunto l'ho visto solo di profilo, era come dicevamo prima, alto e moro, la dinamica dell'aggressione riportata qui in questa intervista del resto del Carlino. Ancora le pagine che riguardano però l'interno del resto del Carlino, l'interno della nostra provincia, brutto episodio, insomma code, trasferimenti per questo lungo ponte, però insomma a Cagli e Cantiano, code hanno reso più amara la gita per i semafori che ci sono appunto in quella zona, e gli automobilisti insomma si arrabbiano, si infermono e gridano vergogna, tante ore perse lì ad aspettare appunto il proprio turno per passare. A Fano positivo il primo incontro nei giorni scorsi tra il presidente Tombari e Massimo Seri, quindi parliamo di fondazione Carifano e rapporti con il comune, e quindi siamo alla pagina del calcio perché oggi è lunedì e come sapete le squadre locali hanno disputato un'altra giornata di calcio, anzi stasera vi ricordo che daremo come sempre, come tutti i lunedì, la partita della visse. Allora vediamo com'è andata in questo articolo del resto del Carlino, Chieti 1, Alma, Juventus, Fano 2, Fano è una macchina da guerra, a Chieti il ventitresimo risultato di fila, invece come è andata alla visse, la visse mare di errori, la visse sprofonda perché rimonta sfiorata ma sconfitta, è retrocessione la sintesi questa di tutta la giornata, vi spesero 1, Termoli 2. e proprio su questo argomento della visse con una foto estremamente eloquente di uno dei suoi calciatori, che la vedete qui nella foto notizia del messaggero edizione di Pesaro, stagione da incubo, visse retrocessa, VL, K.O., sfida finale con Caserta, i servizi all'interno che riguardano lo sport e sicurezza, cronaca, quindi arrivano le nuove telecamere, vediamo poi dove saranno posizionate, vi dicevo il meteorologo annuncia tre giorni di gran caldo, quindi temperature veramente sopra la media, saranno quelle odierne comprese tra i 18 e i 28 gradi e quindi le minime invece oscilleranno dai 6 ai 14, quindi punte massime vicino ai 30 gradi per questi giorni. Quindi le telecamere, vediamo le telecamere che saranno in dotazione nella zona di Pesaro contro i furti, si schierano le telecamere, un impianto fisso all'uscita del casello potrebbe rilevare le auto rubate e quindi bloccare così chi arriva per commettere reati, allo studio del sindaco anche l'ipotesi di aumentare video sorveglianza nei quartieri più a rischio, vedete l'installazione di alcune videocamere. Ancora dalle pagine del messaggero, la cultura è ricchezza, perché si è parlato in questo festival che ha tenuto una sezione anche a Fano, il festival del giornalismo culturale, appunto la cultura è ricchezza non solo della mente ma anche dell'economia e questo è uno dei tratti, il Firo Rouge, della terza edizione di questo festival del giornalismo che quest'anno ha visto coinvolte anche Fano oltre che Urbino, quindi la cultura è una ricchezza, chiudere un'orchestra o un'azienda è la stessa cosa, insomma, quindi si tratta sempre di posti di lavoro e la cultura, come si dice, non è una spesa, è un investimento e questo ne siamo tutti consci. Vi lascio con un'ultima nota di spettacolo, se volete, perché il basket fa spettacolo a Pesaro, dopo il successo del musical Romeo e Giulietta, l'Adriati Carena, mercoledì ci saranno gli Harlem Globetrotters, i giocolieri del basket, insomma, per gli amanti di questo sport e di questo spettacolo, sono stati nella memoria di tutti e di tutti noi, me compreso. Bene, grazie per essere stati con noi in questa rassegna stampa, un saluto anche a quelli che ci seguono in replica, per questa mattina è tutto, Occhio ai giornali torna domani mattina alle 7.30. Buon inizio di settimana a tutti voi.